La paura c'è stata e il giorno dopo l'accaduto ci si interroga su quali siano state le cause. Il crollo di una porzione esterna del tetto in un palazzo di via Pioborri nel centro storico di Arezzo non ha causato feriti e tuttavia 21 inquilini tra cui 8 minorenni lo hanno dovuto abbandonare. La strada è quella che collega via Pietro Aretino con via Garibaldi all'altezza del parking Sant'Agostino. L'intera facciata dello stabile è coperta da un'impalcatura, la struttura temporanea avvolge la costruzione perché è in corso un'opera di restauro. In particolare è stata commissionata una ditta edile la sistemazione della porzione del tetto sporgente che da tempo aveva necessità di intervento. La struttura ha ceduto da un lato, il palazzo è stato evacuato e la strada è stata interdetta al transito. Stamani si presentava così, giusto a sperare nella conclusione sollecita dei lavori, naturale e aspettativa dei residenti e degli abitanti della zona.